A tre giorni dalle dimissioni del sindaco Giuseppe Ida arriva la sospensione del Consiglio Comunale di Rosarno. Il provvedimento, scritto in una nota diramata dalla Prefettura, è stato adottato in attesa dello scioglimento dell'EMTE, un atto dovuto quello assunto dal prefetto di Reggio Mariani in seguito alle dimissioni della metà più uno dei membri del Consiglio. Il commissario incaricato di traghettare il comune della Piana verso nuove elezioni è il prefetto in quiescenza Antonio Repucci. L'inchiesta Faust della Procura di Reggio si è abbattuta come un ciclone sulla cittadina, pesanti le contestazioni all'ormai ex sindaco accusato di scambio elettorale politico mafioso. Ida è stato prima posto agli arresti domiciliari, poi grazie alla decisione del Tribunale del Riesame la misura è stata convertita nel più mite di vieto di dimora. Intanto però il primo cittadino presentava le dimissioni, ribadendo la propria assoluta estranità ai fatti.